Attenzione, perché la politica italiana si infiamma come mai prima d'ora. Giorgia Meloni non ha peli sulla lingua e denuncia un sabotaggio interno che, se confermato, sarebbe uno scandalo senza precedenti. In gioco c'è il prestigio dell'Italia in Europa e qualcuno sembrerebbe volerlo sabotare per meri giochi di potere. Cosa sta succedendo davvero? Tenetevi forte perché stiamo per svelare tutto e il ruolo del Partito Democratico vi lascerà senza parole. Giorgia Meloni accusa il PD di fare il doppio gioco contro l'interesse nazionale. Ma è possibile che la sinistra stia davvero sabotando l'Italia per interessi di partito? Guardate fino alla fine per scoprire chi sta davvero tramando contro il nostro paese. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità sui retroscena della politica italiana. Attivate la campanella perché ci sono cose che in tv non vi diranno mai. Giorgia Meloni è esplosa di rabbia quando ha visto mancare il supporto unanime da parte di tutte le forze politiche italiane per la nomina di Raffaele Fitto come vicepresidente della Commissione europea. Un attacco trasversale, ma mirato, che secondo Meloni arriva proprio dal Partito Democratico, il quale sembra più interessato a seguire le direttive del Partito Socialista europeo che a sostenere l'Italia. Meloni ha ricordato ai suoi avversari un episodio emblematico, quando Raffaele Fitto e persino Silvio Berlusconi, pur essendo all'opposizione, scelsero di sostenere Paolo Gentiloni come commissario europeo. Una scelta dettata dall'interesse nazionale per dimostrare che l'Italia è una squadra unita in Europa. Ma questa volta, secondo Meloni, la sinistra italiana avrebbe deciso di sabotare deliberatamente il nostro paese. Non è un'accusa leggera, ma c'è di più. Il Partito Socialista europeo ha dato mandato alla capogruppo di opporsi alla vicepresidenza per fitto, un ordine preciso, eseguito senza esitazione dal PD italiano. Meloni si rivolge direttamente agli elettori di sinistra. Davvero pensate che i vostri rappresentanti stiano agendo per il bene dell'Italia, o stanno solo seguendo logiche di partito? È qui che arriva l'accusa di antinazionalismo. Per Meloni, il PD non sta agendo nell'interesse dell'Italia, ma solo per motivazioni di parte. Questo mentre il governo di centrodestra ha ottenuto risultati positivi in Europa, smentendo chi li vedeva isolati e incapaci di ottenere consensi. Un successo che secondo Meloni sarebbe stato ancora maggiore se tutti i partiti avessero messo da parte i personalismi. E voi? Cosa ne pensate? È giusto che un partito italiano si opponga alla nomina di un commissario italiano solo per calcoli politici? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sentire la vostra opinione. Se siete stufi di questi giochi di potere che danneggiano l'Italia, lasciate un like e condividete il video. Iscrivetevi al canale per sostenere chi dice le cose come stanno. Meloni ha chiesto chiarimenti alla segretaria del PD, Ellie Schlein, accusandola di mancare di trasparenza. I leader politici devono rispondere ai cittadini italiani, non a me, ha tuonato Meloni. E voi? Credete che Ellie Schlein risponderà? La mancanza di una posizione chiara del PD è un insulto a tutti gli italiani che credono nell'interesse nazionale. C'è bisogno di chiarezza e di responsabilità. E la Meloni promette di non fermarsi finché non otterrà delle risposte. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.